Salve e ben ritrovati a una nuova puntata di Imarcabili in serie B. Siamo alle porte dell'ultimo turno, sia in B nazionale che in B interregionale. In serie ci invece entriamo, ci avviciniamo proprio all'ingresso nei play-off perché appunto si è chiusa la regular season. Quindi ovviamente è stato un fine settimana di verdetti a tutti i livelli. Insomma, ovviamente fine settimana che però era caratterizzato in primis dal derby tra Risto Pro Fabriano e General Contractor Jesi. Ci aspettavamo una grande sfida, grande sfida è stata, ma con una squadra che ha decisamente dominato la sfida. Ed è stata la Risto Pro che al di là del risultato, nel finale è stato alla fine con uno scarto contenuto da Jesi, che ha perso soltanto di otto, ma Fabriano ha sostanzialmente controllato la partita per tutti i 40 minuti, ha veramente messo in campo tanta tanta più energia rispetto a una Jesi, che rispetto probabilmente a quella scintillante di qualche settimana fa, ora sta un po' mostrando il fianco, un po' in leggerissima flessione. Veramente l'energia ha fatto tutta la differenza del mondo in questa partita e ovviamente i due giocatori di energia di Fabriano sono stati quelli che l'hanno fatta la differenza, ovvero Jannik Giombini ancora una volta, Francesco Gniecchi ancora una volta, sprazzi di Stanic quanto è servito, in avvio per accendere l'Aristo Pro e nel finale per chiuderla, ma insomma una vittoria più netta di quello che non dica il risultato, no Fabri? Sì, sono d'accordo, è una vittoria più netta di quello che dice il risultato, ha Jesi il merito di aver comunque più volte rintuzzato gli svantaggi anche in doppia cifra, insomma, però onestamente è sembrata una partita in cui una squadra aveva il pallino in mano e l'altra cercava di inseguire. Abbiamo detto in sede di presentazione che la chiave, una delle chiavi sarebbe stata la battaglia a rimbalzo, ed è stato un massacro totale, un massacro totale, adesso mentre parlo magari Paglia recupera un attimo i dati precisi, ma Fabriano... Quello dei rimbalzi in attacco era stato veramente abnorme, Fabriano solo recupera un attimo, 22 rimbalzi in attacco Fabriano. Una follia, una follia che ha permesso chiaramente a Fabriano di tirare ogni azione due volte, se non tre, se non quattro, ha già stato un'azione che Fabriano ha tirato quattro volte, con un protagonista assoluto che è Giumbini, ovviamente, l'avevamo detto che pareggiare la sua intensità doveva essere, secondo me, la priorità per Jesi, Jesi che è partita col solito quintetto e è andata subito sotto come colliderante, proprio perché è casa grande da quattro, non aveva la minima possibilità di marcare uno Jannic, che si è fatto trovare pronto anche in fase offensiva, facendo le cose da cinque puro. Roll, qualche giocatina di post basso, cosa che in realtà lui aspira a diventare un quattro, deve diventare un quattro per poter andare in A2. Volevo chiederti proprio questo, Fabri. Ti preoccupa il fatto che... Molto. ...comunque stia facendo il meglio da cinque tattico? Assolutamente molto, mi preoccupa per... Allora, cioè, è ovvio che lui già così... Tra virgolette, ovviamente. ...è la romando dei prossimi dieci anni, quel tipo di giocatore lì, ok? Può giocare da quattro, da cinque, eccetera. Però mi preoccupa l'involuzione tecnica di Jann, proprio dal punto di vista dei fondamentali, soprattutto del tiro. Ha preso un tiro a tre punti, tabella centrale, ha spaccato in due il tabellone, ha perso totalmente fiducia sul suo tiro e soprattutto sta proprio giocando da cinque d'aria. Che va bene, assolutamente, per vincere le partite. C'è stato anche un momento in cui giocava lui da cinque, negri da quattro, quindi un quintetto microscopico di Fabriano che però andava come i pazzi. Onestamente, ieri ci ha capito poco dal punto di vista delle rotazioni, è andata prima con Tiberti, poi Varaschina ha giocato quasi tutta la seconda metà, proprio per fermare Jann quando però ormai aveva preso fiducia, i giochi erano un po' fatti. Tornando al discorso di Giombini, Giombini se vuole ambire, è anche un amico e sono un suo grande estimatore, se vuole ambire a piano superiore deve tornare a fare le cose da quattro, quindi deve lavorare in estate su tiro a tre punti, prima cosa, magari su pick and pop, sul poter mettere palla a terra in alcune situazioni, cosa che non fa. in questo momento si è concentrato sulle cose che sa fare molto bene, cioè andare all'imbalzo e finire al ferro. Per il suo sviluppo però, Paia, per risponderti alla tua domanda, secondo me non è questa la strada, per poter ambire alla 2. Per stare in B1 va più che bene, perché ti ripeto, già oggi, secondo me, è uno dei top lunghi... Lo dicono i fatti, ovviamente. Tornando al derby, Paia, allora, l'altro grande mismatch, Stanic-Merletto, non è praticamente neanche iniziata la partita, nel senso che Merletto veramente sedato, proprio sotto tono, una partita molto, molto al di sotto delle sue potenzialità, che sono molto importanti, e Stanic comunque si appaia onestamente, ha fatto 3-4 cose nei momenti clutch della partita in cui capisci che è un giocatore di assoluta esperienza, che queste partite l'ha vista, che queste vissute, giocate, che ha messo secondo me il suo marchio in maniera importante. E niente, abbiamo detto un pochettino tutto, insomma, ieri è stata tanto, tanto ad inseguire, non è mai riuscita fisicamente a trovare un modo di fermare, insomma, Fabriano, sia col quintetto grande che col quintetto piccolo che col quintetto microscopico, alla fine della fiera, un derby che, onestamente, Fabriano ha strameritato di vincere, e ci sta, perché giocava in casa, perché era lanciata, eccetera, eccetera, e che secondo me nulla toglie, non fa cedere nessun campanello d'allarme in casa ieri, sì, sono due stop fisiologici che ci stanno, però, insomma, la stagione resta super. Continuiamo magari la grande partita di Antonio Valentini, che è stato l'unico, probabilmente, a tenere alta la bandiera della General Contractor, appunto, non so se è finito addirittura col 100% del campo. 100% era 100%, era 17 punti col 100%, poi non so. Non so se è finito, non me lo ricordo a memoria, ma comunque non infice assolutamente la partita, che è stato l'unico, veramente, da tenere alta la bandiera di Iesi. Nel finale, qualcosina da diverti, ma ormai era, ormai a babbo morto, la partita era andata un po' via, ma appunto, per il resto, appunto, la partita l'abbiamo un po' sviscerata. Interessante adesso le prospettive, invece, che si aprono nel post-derby. Per Fabriano, di fatto, l'ultima giornata sarà inutile, perché Tajanos è già sicura del quinto posto, però è una partita che è importante per Iesi, paradossalmente, perché appunto sfida in trasferta San Vendemiano, che attualmente è a pari punti con Iesi in classifica, ma con lo scontro diretto a favore, quindi adesso Iesi sarebbe quarta addirittura in graduatoria, quindi partita che avrebbe grande significato per Iesi più che per Fabriano. Iesi, che resta però a meno due dalla vetta, il primo posto è precluso, perché comunque gli scontri diretti rendono inavvicinabile, appunto anche la parità a quattro renderebbe impossibile per Iesi arrivare in vetta, appunto perché un altro stop di Roseto, peraltro ha lasciato però aperta la possibilità, Roseto e Ruovo sono a quota 48, Iesi e San Vendemiano a 46, dipenderà dagli arrivi a pari punti, Iesi balla, diciamo, dal secondo al quarto posto, è ovvio che fa un po' tutta la differenza nel mondo negli incroci del secondo turno, però comunque Iesi già un piccolo risultato l'ha raggiunto da tempo, ovvero quello di avere il primo turno di playoff in casa, è chiaro che avere anche il secondo, quindi arrivare al secondo posto sarebbe un altro paio di maniche. Dunque per Iesi sostanzialmente si cambia, ma credo che arriveranno con la testa bella sgombra, bella tranquilla, insomma hanno fatto prime quattro, che era un obiettivo non per forza così scontato da raggiungere, e anzi, alla fine credo che avranno un primo turno dove possono passare, poi da lì un po' l'appetito va mangiando, però ti ripeto, l'obiettivo stagionale era fare i playoff, l'hanno raggiunto alla stragrande in anticipo, quindi anche dovessero finire quarti cambierebbe veramente poco. Per la vetta, Paglia, correggimi se sbaglio, la sensazione di solidità non me la dà nessuno, né Ruvo né Roseto, non me la dà veramente nessuno. Ai playoff il fattore campo di Roseto si sentirà tantissimo, su questo siamo d'accordo, però nessuno mi dà la sensazione di dire siamo noi la favorita, quindi occhio anche a sorprese, sotterfugi vari, gente che insegue, rintuzza dalla corsia 4, insomma perché playoff sono molto aperti, molto aperti quest'anno. Davvero, anche perché risalita sotto ci sono squadre come Frenza e Mestre che appunto hanno fatto, hanno zoppicato durante la stagione, ma che hanno tutta, tutta la, l'armamentaria insomma per giocarsela, senza considerare che nel Gironi A ci sono due superpotenze come Livorno, le due Montecatini che stanno facendo molto bene, e poi anche altre squadre che, come un po' le Mestre e Frenza del nostro Gironi, hanno zoppicato, ma che avrebbero quantità e qualità per provarci. Vedi Avellino, vedi Sant'Antimo, vedi Piombino, quindi squadre che appunto sono insidiose, che magari se imboccano poi la corsia giusta, se ci arrivano lanciate, possono essere pericolose. Fabriano appunto dicevamo, col quinto posto, oggi sarebbe ad affrontare la Giamma Montecatini, senza il fattore campo. Difficile ma non impossibile, insomma, per la Fabriano vista soprattutto nell'ultimo periodo. Iesi ancora palla, come abbiamo detto, tra diverse posizioni, anche la Griglia nel Gironi è molto ancora incarbugliata, con Avellino che è quinta a quota 36, poi ci sono Piacenza, Piombino e Sant'Antimo, tutti a 34, quindi dipenderà un po' tutto da cosa succede nell'ultima giornata. Ovviamente vedremo, insomma, la prossima settimana come si sarà dipanata la situazione. Scendendo invece in Serebinto regionale, è appunto un altro fine settimana che ha dato ulteriori, ha sgranato un po' la situazione, soprattutto nella zona alta della classifica, nel play in gold, dove appunto ora resta la coppia, Mattelica-Virtus Roma, con la partita dell'anno, diciamo, fino ad ora nell'ultimo turno, con la trasferta della vigora attesa al palacentro di Roma, appunto, spareggio secco, chi vince arriva al primo posto, chi perde però rischia di scivolare indietro, perché poi gli scontri diretti rimescolano tutto, e Bramante e Senigallia sono solo a meno due, quindi, peraltro con Bramante, attesa sul parchè di Fiumicino, con Fiumicino già sicura del sesto posto, e invece Senigallia, che sarà sul campo di Palestrina, già eliminata addirittura dalla corsa play-off, diciamo che Mattelica, non vincendo, rischia di arrivare addirittura a quarta. Roma può scendere fino al terzo posto, insomma, visto anche il Pepe che mette questa situazione, sarà una partita che, veramente, è una partita già una finale, fondamentalmente, tra Mattelica e Roma. una finale veramente anticipata, pesante per tutti e due, anche proprio per, sì, ovvio, per la classifica, ma anche per il messaggio morale che mandi a campionato, soprattutto per quello, no? Una partita tra due squadre che arrivano bene, Roma è arrivata, come era lecito aspettarsi, tutto sommato, è arrivata, tempo di adattamento un pochettino, ma sta lì, Mattelica ci arriva sulle ali di un Mariani discreto, in linea di massima domenica. Terzo quarto senza logica, domenica scorsa con più vicino. Totalmente dominante, anche Riccio, comunque è tornato a far canestra, è tornato a fare le sue cose nell'ultimo mesetto, insomma, ci arriva bene. una partita che si decide, paglia onestamente, su chi ne ha di più, cioè non vedo grossi match-up chiave dal punto di vista proprio tecnico, tattico su cui si gioca. È ovvio che Mariani, chiaramente, è un po' l'X-factor della partita, chi lo prende, anche se comunque Roma ha assolutamente i giocatori che possono, perlomeno, provare a starci, poi bisogna vedere Mariani, chiaramente, che partita fa. tante le variabili e il fattore campo potrebbe essere una di quelle, onestamente, che poi sposta un po' cattivo di più. Roma, all'andata appunto, perse a Madelica, ma non ha peso appunto lo scontro diretto, visto che una delle due comunque arriverà sopra a prescindere. All'andata, Costrullo mandò in missione Mazzotti su Gaston Welland, che è un po' il go-to guy di Roma e lo limitò abbastanza. L'accoppiamento per Mariani è più difficile per la Virtus, perché probabilmente ha tre esterni tutti i giocatori che offensivamente produttivi, ma non così impattanti difensivamente, perché ovviamente di Welland abbiamo detto, Petrucci e Rocchi sono fondamentalmente due grandissimi tiratori, ma non sicuramente dei mastini in difesa, quindi quello può essere veramente, come detto, Petrucci c'è la taglia per starci, ti voglio dire, la taglia fisica se non altro per mettergli un po' di pressione addosso, poi avevo che Mariani ha le competenze tecniche comunque talmente importanti che può fare un po' quello che vuole. Sì, forse dai, diciamo, buttiamo a lì, Willan contro Mariani, vediamo un pochettino chi è che fa la differenza, via, la possiamo riassumere un pochettino così, poi magari la differenza la fa Muschi, per intenderci, cioè, chi lo sa, però possiamo presentare un 30 e 30 più o meno, 28 e 28, quindi magari si annullano, cioè nel senso si controbilanciano le due situazioni e sicuramente qualcun altro può essere l'X Factor della partita, posto che Roma parte dal piccolo vantaggio di giocarsela in casa e in un gattino che, dire gattino è un eufemismo appunto per il palacentro, ma al di là di questo, appunto, Roma che ha lanciato un bel segnale è andato a vincere di 20 in casa del Bramante domenica scorsa, quindi segno che è una squadra pienamente recuperata, prima delica abbiamo detto, è arrivata la vittoria netta, ma non c'era da dubitare, di Senigallia sul Val di Ceppo che quindi tiene appunto i biancorossi lì in agguato, insomma, subito dietro alle prime, Loreto Pesaro che ha blindato invece l'accesso ai play-off battendo Palestrina e ancora può sognare anche il quarto posto perché in caso si arriva a pari punti Loreto Bramante quindi ci vorrebbe vittoria del Loreto, vittoria di Senigallia, sconfitta del Bramante, a quel punto visto che lo scontro è diretto a favore e l'Aidel Service farebbe il sorpasso, sarebbe anche una beffa per il Bramante andare a finire addirittura al quinto posto, però appunto è la formula insomma di questo campionato. Hai la sensazione che Loreto sta arrivando quasi a pari spenti? Nel senso col fatto che sono partiti da dietro, ovvio che hanno un roster sterminato, ha speso dei bei soldi, eccetera, però c'è tanto hype su Roma, Mattelica, sta roba qua e pare che ci stiamo quasi scordando Loreto, ma Loreto ragazzi... Forse noi ce la stiamo scordando, ma ti assicuro che tutti vogliono evitarlo per questo libro, perché Loreto è il primo turno. Loreto, primo turno, auguri a tutti, anche se non ha il fattore campo, probabilmente non ce l'avrà, però sti cavoli, c'è, Maruca, tra l'altro anche Fernandez, lo straniero, insomma, si è inserito... Martínez, perdonami, si è inserito molto molto bene, ultimamente sta facendo prestazioni importanti, un giocatore che mette tanta fisicità negli esterni, Di Maruca abbiamo detto, Di Rupil comunque abbiamo già detto, insomma, una squadra che ha mille bocche da fuoco, fa un tanto canestro, se vanno in fiducia è un problema, cioè, tendiamo, nelle ultime settimane, anche forse un po' colpevolmente, non ne abbiamo parlato, ma comunque, tra le stragrandi favorite, anche se parte quinta, Loreto, assolutamente da mettere lì, perché, ok, magari capiterà che non avrà il fattore campo, ma non è che una squadra così lunga, così esperta, con Battisti, Broglie e compagnia cantanti ha problemi di andare a vincere in trasferta, cioè, insomma, da tenere un bel mirino grosso su una squadra che comunque sta arrivando in forma, è arrivata in forma nel momento che conta. Materica e Loreto sono le squadre che hanno il miglior record nel playing gold, appunto, con sei vittorie e una sconfitta, quindi, signori, è andata forte come la Matelica che è prima, quindi, per dire di quanto sia in forma ora la squadra di coach Foglietti. Nel playing silver, invece, non si è sciolto ancora il nodo dell'ultimo posto, l'ultima squadra che andrà ai playoff, il Porto Recanati ha, ovviamente, staccato un po' il piede dall'acceleratore, è arrivata la prima sconfitta di questa seconda fase, ma, appunto, ci poteva stare, perché comunque il Porto Recanati ha già blindato il suo di settimo posto e, appunto, attende in udizia, insomma, da come finirà il playing gold, è arrivata, appunto, come dicevamo, la sconfitta sul campo di Ferentino che aiuta la stessa Ferentino che adesso è al secondo posto e quindi padrona del suo destino se vince è lei, appunto, ad entrare nei playoff, altrimenti c'è la possibilità di una parità con Carver e Biterbo e a quel punto nella parità tre entrerebbe la Carver, quindi Ferentino che deve stare un po' attento a quello che succede nell'ultima giornata, ultima giornata che sarà decisiva anche però in zona playoff perché già da qualche settimana appunto è decisa la retrocessione di Sernia mentre è totalmente bagarre nell'ultima partita appunto per decidere la seconda retrocessione diretta e la squadra che andrai agli spareggi, tra l'altro con tre partite che sono tre scontri diretti difatti perché c'è Civitanova-L'Aquila, la sfida tra le due squadre che sono già salve e poi le altre tutte in ballo appunto tra cui la nostra Ancona Ancona che è padrona nel suo destino contro Mondragone se vince è salva, se perde ha buone probabilità di andare a finire negli spareggi insomma, però ci sono combinazioni che la porterebbero anche alla retrocessione diretta ma anche alla salvezza diretta quindi per evitare problemi servirebbe una vittoria insomma e non è impossibile perché Mondragone oltre al fatto che non è passata una squadra imbattibile tutt'altro ma comunque tra le varie combinazioni dei vari scontri diretti arrivi a fare i punti è già salva e non è un dettaglio da poco quando arriva l'ultima giornata. Io credo che Ancona la salvezza di Ancona possa essere definita come un'impresa qualora arrivasse non la voglio tirare assolutamente mio amico Gianmarco Petitto però insomma avrebbe centrato la doppietta finale nazionale salvezza e facendo anche un lavoro importante quindi ne parliamo domenica per Scaramanzia e credo che tutto sommato sarebbe anche meritato per quello che si è visto sul campo Mondragone è il più grosso mistero secondo me di questo di questo girone perché squadra che ha meno talento di Dorota Ferrata sicuramente ma anche di Rosetto che è ancora impelagata sicuramente tra l'altro Gabri se non sbaglio partiva da aveva fatto otto punti nella prima parte ha fatto un cammino netto di Napoli ha completamente cambiato marcia cioè ha allacciato le scarpine ed ha guidato proprio i suoi in maniera impressionante anche domenica insomma hanno quando lui decide la squadra gli va assolutamente dietro e in un modo nell'altro trovano una soluzione pressando facendo della gran confusione nell'accezione migliore del termine sto parlando però onestamente non me ne vogliano però a livello di talento partivano un pochettino dietro rispetto a squadre che tuttora stanno vettando per la salvezza e complimenti a Mondragone perché ha accettato una salvezza una giornata d'anticipo insomma importante sicuro è stato l'innesto di Airovic assolutamente sì perché ha una dimensione interna importante però ripeto questa è la squadra di Napoli va dove la porta il playmaker classe non lo so ma credo oltre comodamente i 40 quindi non me lo ricordo però bravo lui per l'altro la partita della paura è Roseto Grottaferrata tutti lì inutile che stiamo parlando insomma la partita della domenica è quella lì perché mette in pali una salvezza diretta per Roseto l'aggancio e complicazioni varie per Grottaferrata Grottaferrata che ha vinto contro Civitanova voglio siccome si è un po' parlato a lato a profitto della della piattaforma che ci siamo creati per fare un po' di chiarezza Arienti Febbre e Balasciani Tendine quindi non è che siamo andati giù a perdere tempo ma siamo andati giù a giocare una partita che nel primo tempo eravamo 35-18 per noi facendo canestro in tutti i modi possibili tirando anche con le ginocchia poi chiaramente Grottaferrata ha stretto le fila come giusto che sia noi abbiamo giocato tanto con i ragazzi perché eravamo in sei contati e quindi chiaramente alla lunga insomma nell'ultimo quarto sono andati via questo per chiarezza perché ho sentito un po' da più parti dire è falsato Civitano no abbiamo due giocatori rotti ma che è causa del suo mal pianga se stesso nel senso che Civitano ve lo siete guadagnato la possibilità di giocare queste partite in questa maniera lungi da una società seria da un allenatore serio come Marco Schiavi all'andare a fare cose del genere semplicemente con due giocatori rotti siamo in otto ne rimangono sei i ragazzini giocano punto fine della questione questo è quanto e velocemente poi la notizia invece del play in silver è l'ultima panchina di Maurizio Surico che abbandonerà il Pisarum cosa che era già nell'area un po' da un po' credo che abbia raggiunto il massimo possibile salvando il Pisarum in B2 in maniera così convincente e quindi io credo che nella sua testa si sia detto probabilmente il mio ciclo qua è finito come quello di Giunta magari ci aggiungo forse Vicky chi lo sa comunque ci può stare che quei giocatori che sono sempre stati con coach Surico magari debbano un pochettino rifondare ed è giusto che sia così quindi con lupo al coach lo ritroveremo sicuramente da qualche altra parte tempo zero però ecco questa forse non appaia la notizia l'unica notizia un po' interessante di un play in silver che ha già per quello che ci riguarda emesso tutti i verdetti me l'ho tenuto in coda però allora l'hai detto tu a posto così comunque restiamo a parlare di Binte regionale con il nostro ospite di questa settimana che si lega appunto al tema del big match del prossimo fine settimana è appunto Ivan Morgillo lungo della Alley Matelica andiamo ad ascoltarla il nostro ospite questa settimana abbiamo il lungo della Alley Matelica Ivan Morgillo grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto grazie a voi è un piacere e appunto con te Ivan ripartiamo da domenica scorsa un Alley che è ritornato al successo con la vittoria contro Fiumicino vi siete regalati una chance innanzitutto per il primo posto era però anche importante rimettersi in corso dopo quello stop contro Palestrina no? Sì sicuramente c'è il rammarico per una partita decisamente buttata a Palestrina perché da quando sono qui è stata la peggior partita come atteggiamento dall'inizio che abbiamo nonostante la mia assenza che ha avuto un risentimento al vecchio infortunio a Polpaccio siamo riusciti da almeno 19 a ritornare sotto e avere pure la palla per comunque andare a supplementare o addirittura vincere non era facile la partita di domenica perché Fiumicino nonostante è ancora l'unica squadra a non aver mai vinto in questo play-in è una squadra di assoluto valore ha perso sicuramente all'Odi ancora non era rientrato Fanti che è un giocatore di esperienza però è una squadra con nomi importanti e non era scontato vincere però ovviamente era il nostro unico obiettivo di domenica e adesso abbiamo tutte le nostre mani perché comunque andiamo a Roma con la consapevolezza che vincendo saremo matematicamente primi se perdiamo non si sa perché ci sono altri risultati in ballo e appunto anche il meccanismo particolare di questo campionato che ha rimescolato molto le gatte Costrullo ne ha parlato anche nell'ultima nell'ultimo post partita appunto rischia di lasciare la mare in bocca perché poi andare a perdere a Roma sul campo della Virtus che è una delle corazzate di questo girone ci sta tutto sommato rischiare di scivolare al quarto posto sarebbe una bella penalizzazione per una squadra che ha fatto un grande percorso come la vi ricordo di quest'anno sì sicuramente è una formula un po' particolare però se l'hanno fatta anche negli ultimi tre anni in A2 che sicuramente la A2 è un professionismo leggermente più elevato al nostro l'accettiamo per quella che è per quanti tutti dicono perché ovviamente la prima fase l'ho giocata solo in parte avendo fatto solo quattro partite le voci e i risultati dicono che il campionato cioè scusa il girone delle marche era più competitivo di quello romano però ci non toglie che Roma ha perso solo due partite nella prima fase noi ne abbiamo perso mi sembra cinque quindi potrebbe recriminare anche Roma questo questo play in gold lo prendiamo per quello che è siamo stati bravissimi fino ad ora a vincere ne sei e perdere una e speriamo di fare la settima e diciamo coronare una stagione regolare quasi quasi perfetta appunto come hai come hai accennato tu sei arrivato a Materica a metà stagione hai scelto di scendere dalla B nazionale alla B interregionale ci parli anche di questa di questa scelta in particolare perché comunque la scorsa estate con questa divisione un po' della B a metà un po' tutti ambivano a stare sopra tu hai fatto questo percorso inverso ed è è stato abbastanza raro in stagione in corso vedere questi diciamo salti di una categoria indietro ce ne parli della tua scelta? Eh come l'avevo già accennato al programma dei tifosi Gladia Torres è stata una scelta sicuramente ponderata perché quello che mi è successo a Mestre non era una cosa preventivata perché diciamo io sono stato è brutto usare il termine vittima però a tutti gli effetti sono stata una vittima di un meccanismo diciamo più grande di me dove purtroppo per coincidenza di ruoli e movimenti di altre squadre è un po' come non voglio paragonarmi all'NBA però come può succedere ogni tanto anche l'NBA l'ho vissuto in prima persona ma in serie B in Italia che è leggermente diverso e io non ho negato anche in trasmissione che l'altra trasmissione che il mio obiettivo era rimanere in B1 perché comunque è la categoria dove giocavo però non era non era la mia unica scelta se quello che mi veniva offerto erano situazioni un po' più disperate di squadre che retrocedevano lottavano per i play out o se fosse arrivata una squadra con ambizioni importanti in B1 come le aveva anche Mestre non nego che probabilmente avrei accettato una situazione del genere dato che a fine gennaio col mercato che ti dà quello che ti propone perché non stiamo parlando di giugno tra le varie squadre che si sono interessate la prima in assoluto è stata proprio Materica ho deciso di scegliere Materica piuttosto che squadre come dicevo prima dove le ambizioni erano proviamo a salvarci ok rimbi uno ma non era quello che volevo era qualcosa di avevo bisogno di qualcosa di un po' più stimolante importante come quello che stiamo provando e proveremo a fare fino in fondo qua a Materica è un tema che è ricorso un po' spesso perlomeno dalle nostre discussioni durante l'anno ovvero quello del livello che si è creato tra la serie B1 e B2 la chiamiamo per semplificare che idea ti sei fatto tu che le hai vissute in prima persona entrambe quindi il tuo parere sicuramente è autorevole da uno che le ha vissute entrambi appunto con queste due nuove categorie diciamo allora io la B2 ovviamente l'ho sperimentata a metà perché la prima fase ho giocato solo quattro partite e ho giocato contro diciamo due squadre di medio basso livello e due squadre di un livello un po' più alto e confrontandomi anche con i ragazzi e ovviamente avendo fatto più di metà di campionato con la B1 sicuramente e credo che parlano anche i numeri le prime quattro di un po' tutti i gironi della B2 se la giocherebbero per salvarsi sicuramente in B1 perché basta vedere i nomi di squadre del nostro girone cioè quello del playing gold o anche i dati di gironi dove giocano dei miei ex compagni di squadra sono giocatori che nelle vecchie stagioni hanno sempre giocato ad alto se non altissimo livello in B quella che era l'unica B che c'era prima quindi ovviamente essendo 96 squadre è abbastanza non dico scontato ma quasi che le prime quattro degli otto gironi siano le squadre che l'anno scorso in serie B lottavano o comunque erano in B per provare a fare i playoff perché poi ricordiamo l'anno scorso la metà delle squadre sono retrocesse praticamente ed è ovvio che almeno la metà delle squadre di presumo tutti i gironi siano squadre di serie C che chi più chi meno ha mantenuto quel livello là quindi adesso che stiamo giocando in playing gold ti posso dire tranquillamente che sono squadre che se la giocherebbero per la zona franca in B1 zona franca barra play out ovviamente non non zarderei a dire play off anche se qualche sorpresa anche se fa la fine ma adesso sto vedendo che più o meno quelle che arriveranno sono arrivate in zona play off in B1 erano quelle che oggettivamente ci dovevano arrivare però io credo che queste diciamo quelle sei che andranno a fare i play off in B2 se la giocherebbero tranquillamente con quelle che non faranno né play off né play out Gavri l'impatto che hai avuto con Mattelica è stato sicuramente molto importante probabilmente se allungo fuori categoria per questo per questo campionato e lo dico ai numeri ma lo dice Pedigree lo dice chiunque abbia visto un po' di basket la domanda che ti voglio fare io è questa hai trovato delle difficoltà di adattamento è vero che il salto di categoria non è straordinariamente elevato perché comunque Mattelica onestamente è una squadra che assomiglia tantissimo a una squadra di B2 ma in generale al contesto B2 hai trovato delle difficoltà di adattamento o delle facilità di adattamento ecco no oggettivamente non non tante cioè è stato abbastanza facile sicuramente all'interno della squadra il coach aveva delle regole soprattutto difensive un po' particolari agli standard che non ero abituato e quello riguarda la squadra e l'host col campionato sarà che forse avendo fatto solo quattro partite della prima fase tra cui una contro Loreto che è nel nostro girone adesso è playing gold e e le altre sai la prima ero qui da un giorno quindi non la considero la seconda era con Loreto le altre due di cui l'ultima non serviva né a noi né a Pescara quindi non riesco a a farti un metodo di paragone perché come ho detto già prima in questa seconda fase le squadre sono più vicine a un AB1 che a un AB2 e potrebbero essere forse i campi che i campi un po' più piccoli di solito in B1 trovi qualcosa di un po' più come strutture più grandi gli arbitraggi come sono anni che dico che sarà che non li formano ma come non erano di altissimo livello in B1 non lo sono minimamente in B2 e per il resto forse l'unica differenza che in B1 c'è un po' più di attenzione difensiva rispetto a livello generale della B2 però ripeto io comunque avendo fatto poche partite dalla prima fase non riesco a dirti le vere differenze con con la B1 perché questo gioco è di altissimo livello quindi per me è quasi una B1 quella che sto giocando in questa seconda fase senti una delle non incognite però comunque delle domande che potevano essere fatte sul tuo inserimento era la capacità di poter stare in una rotazione con Muschi e con Providenza che sono dei giocatori che giocano per certi versi che per un motivo che per un altro le tue zone di campo no? Muschi più interno Providenza magari un pochettino più perimetrale come ti trovi in questa hai dimostrato ampiamente chiaramente non me ne voglio a Muschi che è un amico assoluto di essere un giocatore probabilmente di categoria come dicevamo prima superiore quindi di poterti adattare tranquillamente come ti sei trovato all'interno di questa rotazione dei lunghi proprio in termini di spazi che occupate in campo? Beh io probabilmente ho fatto più difficoltà a mestre ad integrarmi sotto questo punto di vista perché là eravamo veramente quattro lunghi intercambiabili poi abbiamo avuto un cambio con Bugatti quindi ho avuto vita facile venendo qua a Matelica perché sapevo di avere due compagni di reparto tra di loro completamente opposti perché Albi Providenza è più un quattro tendente al tre probabilmente naturalmente solo naturale secondo me forse è anche più un tre che un quattro però ovviamente si adatta a quattro anche in questa categoria e invece Manu è proprio il classico cinque di serie B solido con un buon tiro dalla media difensore rimbalzista che è veramente solidissimo come hai già detto più di una volta e io mi considero proprio nel mezzo che proprio manco a farla apposta infatti io mi considero un cinque che gioca quattro un quattro che gioca cinque quindi è stato facile soprattutto per questo motivo che capitando proprio in un ruolo che non è né l'uno né l'altro praticamente con uno o con l'altro mi ci trovo benissimo in campo anche come come spaziature quindi no è stato abbastanza facile perché avevano bisogno di un giocatore come me quindi non mi sono dovuto adattare più di tanto quindi è stato abbastanza naturale il processo di amalgama senti a tal proposito ti senti più un quattro o più un cinque? questa è una domanda che mi fanno da ormai dieci anni da vent'anni ecco da quando diciamo sono riuscito a inserire nel mio bagaglio il tiro da tre che casomai prima ho sempre avuto ma mai usato tantissimo non lo sono anch'io nel senso sicuramente mi sento più un cinque in serie B perché oggettivamente ho reso di più sia come numeri che come impatto proprio quando uno se lo sente dentro che ti senti nella tua zona di comfort è ovvio che salendo più di categoria per provare a giocare a un livello sempre più alto dovrei tendere a essere più un quattro che un cinque che però per me naturalmente è un po' più difficile cioè naturalmente mi sento più più un cinque poi con l'età sono riuscito a prendere anche qualche chilo rispetto a quando ero più giovane che anche a livello fisico facevo un po' più fatica e invece adesso anche un po' con l'età esperienza e anni e anni lavorare anche d'estate sono riuscito anche a tirare una buona struttura che anche a livello difensivo mi permette di tenere sicuramente i cinque e i quattro dipende un po' dal ruolo perché ci sono squadre che giocano con due lunghi e lì ti riesci ad adattare squadre che giocano con quattro tanto perimetrale tanto che attacca uno contro uno fronte al canestro è ovvio che lì potrei andare leggermente più in difficoltà in difesa senti quest'anno introduzione degli stranieri per la prima volta insomma anche in serie B tu hai la fortuna secondo me di avere se non il più forte straniero del campionato ci andiamo molto vicino com'è giocare con Mariani in termini proprio di di regia di connessione di pick and roll banalmente insomma come ti stai trovando con lui in generale io con argentini che poi dipende sempre un po' dalle regole passaporti tutte queste carte burocratiche che ci sono state negli anni non è stata la prima volta che ci ho giocato insieme quindi io non lo considero uno straniero sotto quel punto di vista rispetto al tipo Smaigalic che avevamo preso a Mestre a dicembre e lui proprio il classico straniero che ha sempre giocato all'est in Serie A croata quindi per me Fede è un po' un viso familiare come persona visto che ho giocato diversi anni con giocatori argentini ovvio che lui è un argentino atipico nel senso che ha sempre giocato in Serie A nel suo paese e quest'anno come hai detto tu ha avuto l'occasione di venire qui come passaportato Fede è un giocatore al di là delle qualità balistiche e di gioco e proprio si vede che è un giocatore vincente cioè lui anche in allenamento si nervosisce quando perde una partitella o ci alleniamo male ed è una cosa che da compagni di squadra ho visto veramente poche volte ed è ovviamente un'arma a nostro vantaggio perché avere un giocatore come lui che è leader sia in campo ma anche fuori nonostante essendo il suo primo anno in Italia adesso parla abbastanza bene italiano però si vede che comunque non era abituato a parlare in un'altra lingua essendo qui da sei mesi io ovviamente sono arrivato a gennaio anche l'aspetto della lingua è migliorato tantissimo lui cerca di farsi capire in qualsiasi modo chiede sempre come si dice in italiano questa cosa perché ovviamente avendo tanti e quasi tutti i giocatori italiani che non parlano lo spagnolo farsi capire anche con la lingua è importante perché poi è quella che usi anche quando giochi quindi un giocatore veramente forte cioè un classico giocatore forte penso sia l'aggettivo più adatto dobbiamo iniziare a metterlo un po' tutto in fare tra lo spagnolo visto la mercato l'ho portato un po' avanti negli anni ma devo dire che dobbiamo mettere tutti in fare tra Paglia Ivan ormai una una solida realtà diciamo della nostra serie B un veterano è girato un po' ovunque ai quattro angoli diciamo della nostra d'Italia ricordo solo qualche esperienza Sansevero Lecco Padova e via via discorrendo nella il tuo peregrinare diciamo c'era già stata una tappa nelle Marche quella Fabriano nel se non sbaglio 2018-19 e appunto ci parli di quella di quell'esperienza e appunto di che se quella esperienza appunto che era stata come era stata appunto ha influito sulla scelta di Matelica visto che comunque il territorio diciamo più o meno è quello no vabbè sicuramente non ha influito come dicevo prima io ho guardato più l'aspetto cestistico obiettivi di società di squadra però quell'anno Fabriano è stato uno degli anni in cui ho giocato in una piazza importante soprattutto dal punto di vista del pubblico mi ricordo il Paraguirieri aveva sempre almeno mille se non più persone ogni partita poi fu una una buona annata increscendo da parte mia e pure della squadra poi purtroppo finita troppo presto perché penso beccammo la squadra più in forma del momento che era la la Napoli se non voglio dire una stupidaggia ma la Napoli che ora è in A1 cioè che era il primo anno dell'attuale presidente Grassi e oggettivamente era una Napoli che a metà hanno rivoluzionato la squadra arrivò sesta noi terzi e beccammo probabilmente la sesta più forte tutta la Serie B infatti mi ricordo che per un suo finale quindi no sicuramente non ha non ha influito ovvio che è capitato non più di una volta anche domenica è venuto un ex tifoso che ha rifiutato di andare a vedere il derby per venire a vedere una mia partita perché coraggioso questo ma diciamolo piano perché a Fabriano si cercano poi con la lantella no ma mi vogliono bene a Fabriano quindi lo dico per quello non dico a te dico al tifoso al tifoso esatto poi ci è arrivato è arrivato al fine derby è andato poi giocato a Cerreto ci ha messo in atto poi le partite durano un po' di meno anche per l'intervallo che dura di meno quindi fa sempre piacere che quando si è stati apprezzati in un posto ritornare nei paraggi ovviamente se ricabiti nella stessa squadra è abbastanza scontato però nei paraggi incontrare o sentire persone anche ristorante che c'è a Materica dove spesso vanno anche i tifosi di Fabriano la stessa domenica ho applicato una tavolata di 20 persone mi hanno salutato calorosamente quello fa tanto piacere però onestamente non è stata non ha influito tantissimo il fatto che avevo giocato qua a Fabriano qualche anno fa e appunto invece agli inizi della carriera avevi avuto anche l'occasione di misurarti con la Serie A sei stato due anni ad Avellino tra l'altro compagno anche con Gianpaolo Riccio che hai ritrovato quest'anno a Materica ma sono stati due anni in cui magari hai trovato poco il campo ma in allenamento hai diviso insomma il parquet con gente tipo Lakovic tipo Anga Martis Green insomma campioni che hanno vinto anche Euroleague insomma gente di un certo spessore ci ricordi quelle stagioni lì e magari qualche chicca legata a questi a questi grandi campioni del nostro quarto il fatto di aver filmato è stato non un caso però c'è una situazione un po' particolare perché avevo altri due anni di contratto con con la Trapani che vabbè adesso quest'anno sanno tutti quel personaggio il presidente che è cambiata della Trapani che era la Trapani quella di Basciano quindi fino all'anno scorso e dato che erano stati ripescati in A2 io però avevo ancora due anni di contratto e dovevamo trovare una soluzione e iniziare ad allenarmi con Avellino o la Scandone e poi ridosso del campionato loro avevano bisogno del famoso quinto contratto italiano dato che ero lì da un mese e mezzo l'allenatore era Vitucci ed era contento di come mi stavo comportando nell'allenamento loro decisero ovviamente di accettare di passare quel contratto di Trapani ad Avellino quindi da lì è iniziata la mia prima esperienza in A1 il primo anno è stato anche se ero visto il campo col binocolo perché sono entrato forse in 3-4 occasioni a fine partita è stato un anno bellissimo perché l'ho ripetuto più volte anche in altre interviste l'esperienza è ovvio a 30 anni non lo so dipende però in generale in carriera fare un'esperienza vera cioè quindi sotto contratto quindi se ti senti veramente tra virgolette un giocatore di Serie A ci vuole perché ti apre anche un po' la mente proprio se hai la possibilità di fare anche se fossero 3-4 minuti a partita ti senti ancora di più parte del roster e non è stato il mio caso però il fatto di fare un anno dove giri tutti i migliori palazzetti d'Italia ha a che fare con i giocatori che come hai detto tu hanno giocato l'NBA non in squadra contro è bellissimo io vabbè nell'anno come hai detto che ha vinto che ha vinto anche i scudetti poi con Ivanov che era relativamente giovane ma usuratissimo ha lo stesso tempo fortissimo e poi Lakovic che mi ricordo una mitraia una mitraia io me lo ricordo a 15 anni una Napoli Barcellona di Erolega che è davvero in prima fila che lui sbagliò il canesso per la vittoria e di trovarsi dopo neanche dieci anni ad allenarsi insieme è stato qualcosa di irreale era a fine cadiera però giocatore incredibile mi ricordo non più di una volta dato che capitava che facevo l'undicesimo a fine alleamento mi prendeva e faceva un quarto dura 20 minuti individuali comunque un giocatore a 36 anni dovrebbe solo individuali neanche tiro per esempio individuali fai questo io ovviamente da un lato dicevo oh mio Dio perché è freddissimo casomai venivo da un'ora che ero in panchina tantissimo 5 contro 5 quindi se non capitava capace che non entravo però dall'altro lato io ovviamente sapevo chi era ero solo onorato infatti non a caso lui forse ecco è diventato allenatore ha perso la finale con con la vizio Bologna di Euro Cup l'ha vinta mi sembra l'anno scorso due anni fa e quindi diciamo che lui aveva già quella quell'idea lì quell'idea lì poi ho giocato con Jarvis Seis che ho scoperto era stata una decima scelta al draft di Lebron quella è stata tra l'altro erano compagni di distanza in trasferta e il secondo anno invece ho avuto la sfortuna che praticamente dopo una settimana di alleamenti mi fecero da ponte durante l'alleamento ho caduto di male sul gomito un'infortuna abbastanza lungo perché all'inizio sembrava una stupiraggine e poi ho dovuto andare sotto i ferri e quindi praticamente ho saltato quasi tutta la stagione addirittura mi dicevano che bisognava vedere se riuscivo tra l'altro il mio gomito sinistro se riuscivo a recuperare al 100% poi fortunatamente non ho avuto mai più problemi quindi alla faccia alla faccia dico ovvio mi sembra che hai ripreso un po' abbastanza sì 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 anzi in primi anni mi prendevo in giro da solo perché io sono abbastanza iper elastico quindi tendo ad andare anche oltre i gradi usuali dopo l'operazione il braccio era sempre dritto quando tiravo quindi per assoluto ti ha perfezionato sì me l'hanno messo a posto con il secondo anno diciamo che non ho avuto la possibilità di continuare a crescere e vedere casomai dopo due anni inseriato dove potevo arrivare quindi diciamo la mia esperienza si limita più o meno a un anno perché il secondo è stato più che altro in clinica non in campo io ti ringrazio Ivan e bocca al lupo tanto ci vediamo domenica in pullback va bene va bene ciao Ivan grazie ciao ciao ed era Ivan Morgillo lungo della Alley Matelica scendiamo in Serie C Serie C che ha emesso i suoi ultimi verdetti ha stabilito le otto qualificate per i playoff e le altre che poi sono invece finite nel play out play off che vedrà appunto Re Canati sfidare la Sudor Montegranaro come primo accoppiamento se dovesse passare per Re Canati da quella parte di Tavellone c'è la vincente invece da quella che probabilmente è la sfida più interessante quella tra Montemarciano e Gualdo due squadre di grandissimo talento una in grande ascesa l'altra probabilmente invece in deciso in deciso down questa parte di Tavellone per Re Canati non così semplice come poteva come poteva essere perché comunque la Sudor che ci arriva in salita e appunto poi c'è l'incognita di trovarsi poi nel turno successivo due squadre che hanno tutta la qualità almeno per provare a dar fastidio allora analizzandolo giustamente come ho detto Paia per metà è ovvio che la favorita è e resta largamente Re Canati per quello che ci ha fatto vedere però la Sudor non è proprio l'abbersario più comodissimo da trovare al primo turno perché è una squadra comunque atletica giovane che ha centrato un obiettivo importante quindi arriverà con tutta la serenità del mondo e quando arrivi con la serenità del mondo poi ti capitano anche giornate in cui veramente fa il canestro anche tirando al contrario e quindi c'è sempre da stare attenti in serie comunque brevi quindi dove il margine di errore è poco è veramente basso quindi Re Canati dovrà stare attenta perché è un avversario comunque ostico comunque posto però è ovvio che ci sia una netta favorita l'ha detto il campionato tutto l'anno e non diciamo nulla di male Montemarciano Gualdo partita che chiaramente se guardiamo il roster ha una chiara favorita che è Montemarciano sia per il campo fattore campo che chiaramente per Chiara Gabri secondo te così chiara se guardiamo il roster parliamo di giocatori come Maggiotto cioè giocatori che poi mi aspetto che ai playoff facciano uno step importante chiaramente sia favorita poi però c'è tutto il contesto insomma come hai detto tu Gualdo è arrivato molto molto bene questo finale di stagione Montemarciano un pochettino un pochettino in frenata non so se è qualcosa di fisico anche se si è visto un ottimo Araujo nelle ultime partite e chissà che non sia proprio l'ottimo Araujo ad avere un pochettino scombinato un po' anche ad aver scombinato magari le rotazioni e i possessi offensivi dall'altra parte che possa essere proprio lui il jolly che magari porta Montemarciano a vincere una serie non scontata complicata per entrambe ovviamente con Montemarciano mi avviso leggermente favorita discretamente favorita però Gualdo ripeto ha assolutamente tutto quello che serve per mettere in difficoltà Montemarciano sia in termini di ritmo che comunque Gualdo è una squadra che va sia in termini di giocatori che chiaramente possono stare a un certo tipo di livello playoff Dall'altra parte invece io lo chiamo la parte di Tavelloni un po' delle deluse nel senso che comunque sono squadre tutte che hanno finito un po' incalando nella seconda parte della stagione San Marino forse è finito abbastanza bene forse San Marino un po' meglio ma appunto da questa parte del Tavelloni ci sono Osimo contro la Bartoli Mechanics Medauro che invece appunto è andata veramente a picco finendo addirittura al settimo posto dopo essere stata quarta-quinta aver ballato intorno al quarto-quinto posto per tutto l'anno e invece l'altro incrocio quello tra San Marino e Porto Sant'Elpidio quindi terza contro sesta con una Porto Sant'Elpidio che l'ha guantato all'ultimo l'accesso ai playoff perché perdendo sarebbe scesa dal sesto al nono posto perché Perlucia appunto è arrivata poco sotto appena due punti sotto ma aveva scontro diretto a favore Porto Sant'Elpidio che però appunto si è guadagnata questa sesta piazza e non più di dieci giorni fa aveva avuto il tiro per vincere a San Marino quindi segno che magari sai ci sono spesso queste squadre che contro cui ti accoppi male magari magari per San Marino a Porto Sant'Elpidio appunto guarda perché Paglia se tu ci pensi sono due squadre molto simili con degli esterni di esperienza da una parte pesaresi dall'altra Fabio Bofini insomma pesaresi macina Fabio Bofini con caratteristiche diverse però insomma di quei paragonabili per esperienza per quello che hanno fatto nella loro carriera pesa tanti anni di serie B così come Fabio e dall'altra parte Torresi Gamberini comunque sono due fisici diversi che però giocano le stesse zone di campo e Torresi può essere un corpo da buttare addosso a gambe in maniera insomma continuativa quindi sono due squadre molto simili per certi versi Lussero comunque da quando è entrato sta facendo bene ha beccato una striscia di partite importanti io credo che San Marino abbia alla lunga qualcosina in più però non mi sento per niente di scommettere contro una squadra contro Sant'Elpidio perché comunque è una squadra super esperta che sono due squadre che giocano a ritmo basso non altissimo e quindi sono due squadre che veramente fanno più o meno la stessa palla al canestro poi quando giochi a ritmo basso diventa una sfida a chi sbaglia meno e diventa una sfida probabilmente a chi piglia più rimbalzi e tira più volte banalmente quest'anno ci siamo accorti sia in serie B che lasciamo stare in serie A sia in serie B che in B2 di quanto è importante avere gente che va a rimbalzo in maniera consistente credo che proprio il basket anche nelle nostre maio stia andando proprio verso quella roba lì insomma e quindi ti devo dire San Marino ha qualcosina in più usando per il fattore campo però non ci scordiamo che non più di qualche anno fa Monti Marciano andò a vincere il campionato a San Marino a San Marino quindi veramente 51-49 ecco però insomma una parte di tabellone molto più equilibrata di quello che di quello che si potrebbe pensare nella fascia play out appunto siano formati anche qui accoppiamenti di Iesi già retrocessa sapevamo già dalla scorsa settimana e forse il primo tour ricordiamo che ci sono in palio due retrocessioni quindi ci saranno due turni di play out il primo forse appare quello più scontato perché la classifica ha detto proprio che c'è stata una frattura tra le quattro che arrivano nella parte alta e le quattro che hanno finito che era finito la Gimbasso e copiamenti dicono Poligno-Tolentino Perugia-Falconara Basket Giovane-Dodi e Assisi-Urbania io se devo scegliere la più equilibrata dico Perugia-Falconara ma perché per le qualità individuali che ha Falconara ma per il resto ma tendenzialmente tenderei a dire che tutte le quattro che sono arrivate sopra sono arrivate sopra per un motivo insomma perché letteralmente hanno mostrato di essere un gradino sopra a tutte le altre voglio vedere Basket Giovane-Paia perché è vero che ha fatto un super campionato ma adesso la palla pesa un pochettino di più e una squadra giovane potrebbe inficiare Asterisco-Todi dovrebbe recuperare Simoni mi dicono quindi potrebbe essere già una bella differenza potrebbe essere anche questa una serie ovviamente bisogna vedere come sta Simoni quello che vuoi bisogna vedere quanto entusiasmo porta Basket Giovane a questi play-out perché comunque sia la squadra giovane può o fare super super bene perché quasi non si rende conto di quello che fa oppure può sentire il peso dalla palla e quindi bisogna vedere contro una squadra che se recupera Simoni recupera un totem molto importante onestamente decisivo per Todi quindi vediamo Perugia-Falconara anche qui la favorita è Perugia per quello che ci ha detto la stagione però Falconara ce l'ha i giocatori da play-out comunque da aver giocato queste partite qua play-out play-out che sia non ultimo insomma sicuramente su tutti ci metto Filippo Centanni che è un giocatore che può cambiare marcia tranquillamente a questo quando insomma un pochettino conta di più il lungo ripeto che ha preso Falconara comunque si è inserito bene comunque una mano gliela può dare però ovvio che Perugia va a un ritmo diverso ed ha una lunghezza di roster anche se comunque piuttosto giovane però più lunga più profonda e il campionato ci ha detto un'altra cosa assolutamente appunto come dicevamo si gioca sia la serie di play-off che quelle di play-out alle 2 su 3 quindi la serie non è infinita però se non ricordo male Capri il secondo turno di play-out invece è 3 su 5 quindi già potrebbe essere un qualcosa di differente ovviamente la serie più lunga poi tende a sfavorire i colpi di mano perché ovviamente lo scivolone secco lo puoi assorbire meglio dovendo vincere 3 però appunto vediamo un po' come avanzano le varie serie ricordiamo che appunto si gioca in questo fine settimana le gare 1 poi in infrasettimanale tra mercoledì e giovedì le gare 2 e nel prossimo fine settimana per le serie che ci arriveranno le gare 3 quindi diciamo che nella prossima puntata potremmo avere già le prime qualificate per quelle che chiuderanno sul 2-0 e comunque fare un punto complessivo su tutta la situazione appunto di quello che succederà in serie C oltre che avremo tutti gli accoppiamenti sia della binazionale che della binazionale di cui abbiamo parlato in precedenza siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Imarcabili se ci state guardando siamo su FM TV canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Imarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basketmark e a Giuseppe Condigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento come detto è per la prossima settimana sempre qua su Imarcabili Pierini il tiro e il canestro di Attilio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area che c'è che c'è Grazie a tutti